bene continuiamo con la tonificazione mi sono un pochino coperta perché c'è un'aria che domani sono così ok allora iniziamo a terra in appoggio mani larghe come le spalle e andiamo a fare scendo fino a terra se è allenata puoi stare assolutamente in appoggio sui piedi io le braccia devo stare in appoggio scendo 1 2 2 2 3 4 5 6 7 7 8 ok bene adesso rimani qua e da qui tocchi la spalla, tocchi la spalla, tocchi la spalla vicino così in appoggio vedi sulle mani, tocco, tocco, ok questo lo puoi fare in appoggio sui piedi e collegamo un pochino di varie carte così non va più lì, andiamo, fuori l'aria, dentro la pancia, guarda le tutorial sul tag che ho fatto alla copertina gialla c'è un'intera playlist di tutorial per imparare a fare i movimenti nel modo correcto senza farsi male ultimi due perché mi sto spattando le mani, ok, bene, giusto, non so, sono molto bene, ok, perfetto porta le braccia in fuori, vuota il palmo verso il basso, fai le uscite al centro, sui giù, sui giù, sui giù un pollice verso il basso ancora, hop, 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 hop respira, respira, respira 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e capo riposiamo le mani a terra perché vi voglio male per prendere una buona bella cioccolata aspettate un attimo ok mani in appoggio per terra, questa qua è anche un po' più occettiva perché si sforza bacino sollevato vado a piegare i gomiti stretti e torno su io sono leggermente sopraelevata quindi mi viene più semplice se vuoi puoi usare una sedia ok piega le braccia e vai su ancora piega e stenda piega e stenda piega e stenda non so cosa voglio dire piega e stenda soffia soffia le ultime 4 3 2 1 perfetto rimassa bene sciogli bene le braccia ok vai in appoggio qua appoggio ginocchio a terra appoggio la mano a terra stringi bene l'addome facciamo l'ultimo esercizio e poi estendi e stendi e stendi e stendi stringi bene gli addominali fuori bene l'aria fuori l'aria dentro l'aria fuori l'aria fuori l'aria dentro l'aria fuori 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 l'aria l'aria ancora 4 3 2 1 ok ancora mi butto fuori l'aria prendo l'aria qui mi allungo verso l'alto ok attenzione a rotondo e apro a rotondo prendo l'aria a rotondo prendo l'aria a rotondo ancora qua a rotondo rimango così a rotondare ok incrocio le dita apro bene le spalle ok solleva il ginocchio rafferra il ginocchio stai in equilibrio sciogli un pochino la caviglia perché abbiamo fatto qualche saltello oggi cambio senso cambio gamba cambio senso cambio senso un pochino un pochino per la prima che non per la seconda Per il nostro canale è necessario di rinforzare la vostra scena. Adesso ti consiglio di sdraiarti abbraccia super le gambe in appoggio sul muro per muovere un pochino la circolazione a livello degli arti inferiti. Se non hai tempo fai la retropossione più flessione laterale e ti ricordo sempre come sempre di iscriverti al mio canale perché è gratis e poi non ti perdi gli altri video. Cambio dall'altra parte. Una aerobica più semplice di solito della versione di oggi. Oggi è un po' più difficoltosa, ogni tanto lo faccio per potervi dare un po' di solito molto base e poi il martedì è proprio base base senza periodografica. Si lo so che nella lezione dei aerobica ti ho detto che abbiamo fatto i gambe addominali glutei invece abbiamo fatto braccia addominali perché gambe addominali glutei l'avevamo già fatto la settimana scorsa. Quindi ci vediamo nel prossimo video. Spero che vi siate divertite nonostante so che l'audio non è il massimo perché sono all'aperto e non ho il mio microfono perché ha bisogno della corrente elettrica ma ho un altro microfono. quindi spero che comunque vi divediate. Ciao! Basta sto parlando troppo a tagliarmi. Ciao! 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 Ciao!